Il Mediterraneo centro-occidentale è interessato dall'anticiclone delle Azzorre, associato in quota a un promontorio di matrice africana che favorita un generale aumento delle temperature sull'Italia. In Toscana, martedì 20 agosto, nella notte e nelle prime ore del mattino, nubi basse sulla costa centro-settentronale, sul Valdarno medio e inferiore in rapido dissolvimento, sereno o poco nuvoloso sul resto della regione. Venti deboli in regime di brezza, mari calmi o poco mossi, temperatura in lieve aumento, valore al di sopra delle medie del periodo. Sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio provinciale. A Lucca e nella Piana, temperatura minima 19, massima 34 gradi. A Castelnuovo e zone montane, minima 14, massima 33, a Via Regge sul litorale, minima 20, massima 28 gradi.